buongiorno sono giampaolo dalla pasolini auto di gussago in provincia di brescia oggi vi presento una splendida volkswagen maggiorino 1.6 tdi design dell'anno 2012 vettura immacolata unico proprietario con soli 32 mila chilometri percorsi originalissimi attestati dal libretto service da tutte le copie delle fatture che il cliente ha conservato infatti ha fatto due manutenzioni e azioni di richiamo regolarmente richiamate da volkswagen la vettura è veramente molto accessoriata infatti abbiamo ruote in lega da 17 pollici sensori di parcheggio anteriori e posteriori con sistema audio visivo interno vedete vettura impeccabile abbiamo il tetto panoramico in cristallo opribile elettricamente che rende bellissima questa maggiolino infatti il tetto in vetro è nero abbiamo il volante rivestito in pelle vi mostro anche il chilometraggio scusate devo cambiare schermata percorso totale 32 mila chilometri abbiamo il cruise control il sistema di navigazione satellitare cartografico volkswagen il viva voce bluetooth che adesso in questo momento non è connesso naturalmente radio cd mp3 abbiamo anche il cavo per attaccare apparati esterni climatizzatore cambio meccanico 5 rapporti faccio vedere anche l'impianto audio fender e gli specchi ripiegabili e sbrinabili elettricamente mostro i sedili questa maggiolino naturalmente sono impeccabili abbiamo il bracciolo centrale e il divanetto posteriore con gli isofix per alloggiare i due passeggeri che condivideranno con voi il viaggio questa vettura è disponibile in pronta consegna rispetto a normativa anti inquinamento euro 5 la vendiamo con 12 mesi garanzia legale di conformità vi aspetto gussago in provincia di brescia presso il nostro autosalone pasolini auto per vederla provarla ed eventualmente acquistarla grazie